Siamo pronti e siamo carichi a affrontare la settimana prossima l'inizio con la Coppa Italia. Sono stati dei test che hanno permesso di rodare un po' i meccanismi e siamo contenti di questo percorso che abbiamo fatto. Voglio star qua e vorrei giocarmi le mie carte qua. So che comunque la squadra è forte, stanno arrivando giocatori molto importanti, però cercherò di mettere in difficoltà l'allenatore e ritagliarmi il mio spazio.